Exeractics, oggi siamo qui con un nostro nuovo arrivo, una bellissima Opel Grandan 1.2 cilindrata a benzina, 130 cavalli. Sul frontale troviamo subito dei comodissimi sensori di parcheggio per le nostre maniore. Spostandoci sulla parte laterale abbiamo cerchi in lega di collo che ha 19 pollici. Sulla fiancata troviamo sensore per l'accesso keyless, specchietti neri e tetto nero a contrasto, vetri posteriori e lunotto oscurati e arrivando alla parte posteriore troviamo i nostri comodi sensori di parcheggio più retrocamera. Il bagagliaio ad apertura elettrica ha una capienza di 514 decimetri cubi che può essere aumentato chiaramente abbattendo la panca posteriore. Passando agli interni troviamo delle comodissime sedute in tessuto misto pelle, gli attacchi isofuzzai laterali, finestrini elettrici e bocchette per l'ariazione. Arrivando alla parte anteriore troviamo il cambio che è automatico, freno di stazionamento elettronico tra i due sedili, un comodissimo bracciolo porta oggetti, al centro schermo touch per la gestione dell'infotainment e subito sotto il climatizzatore automatico. Il volante è in pelle multifunzione, troviamo i vari comandi per la gestione del cruise control e delle telefonate della radio, sensore luci e sensore pioggia. Si tratta di un'auto immatricolata a maggio del 2018 che ha percorso solamente 44.000 km. Venite a scoprirla sul nostro sito ratix.com Grazie.